Dai, come sempre cerco di fare il massimo per aiutare la squadra, a volte si fa meglio, a volte peggio, però l'atteggiamento è sicuramente sempre il solito. Sì, a volte anche atletici, molto tecnici anche, lo sappiamo, sono una delle squadre che palleggiano meglio di tutte, quindi sapevamo che probabilmente ci sarebbero stati dei momenti in cui ci dovevamo abbassare e soffrire, l'abbiamo fatto bene per gran parte del primo tempo, non abbiamo concesso praticamente niente, purtroppo un'azione veloce, abbiamo preso gol, però poi il secondo tempo è stato tutto diverso secondo me. Sì, penso che ci voglia quel coraggio lì, ovviamente il momento 2 è difficile, quindi se uno di noi sbagliasse in uscita un passaggio e prendiamo un gol del genere, ovviamente tutti ci pensano, però penso che per la squadra che siamo serve almeno un po' di coraggio in più, almeno in uscita un pochettino, se no giochiamo solo sulle seconde palle, lo possiamo fare, lo dobbiamo fare in certi momenti, ma alla lunga è difficile anche dispendioso. E' inutile che pensiamo partita della vita, perché poi può succedere di tutto ogni partita, quindi poi dopo ce ne sono altre, quindi dobbiamo fare come stiamo facendo nelle ultime, pensare partita per partita, sappiamo che non conta più niente in nessun tipo di argomento, contano solo queste partite qui e poi si vedrà alla fine, ma sappiamo dove siamo tutti, sappiamo in che situazione siamo e l'unica cosa che io dico sempre è di mettere tutto sul campo e non concedere niente sotto il punto di vista dell'atteggiamento, poi dopo alla fine tiriamo la riga.